Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City, seconda Pasqua in zona rossa per tutta Italia, cosa è consentito fare, cosa invece è vietato. Spazio poi alla cronaca con la maxi operazione della Guardia di Finanza contro una società napoletana, milioni di euro sottratti al fisco, 700 milioni di euro per l'edilizia scolastica, ne abbiamo parlato con il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo, un'opportunità da non perdere per i comuni, al via anche a Torre del Greco una serie di progetti per bonificare il porto. in chiusura l'iniziativa dell'Associazione Prima Aurora per riportare il verde sul Vesuvio e a Torre del Greco. Questo è molto altro, guardiamo i servizi. Gite, visite, pranzi e sport. Ecco tutto quello che si può fare e cosa è vietato il 3, il 4 e il 5 aprile in occasione della Pasqua, quando tutta Italia torna in rosso. Resta in vigore il coprifuoco, sempre dalle 22 alle 5. Si potrà uscire alla propria abitazione soltanto per motivi di lavoro, salute e urgenza con autocertificazione. Stessa cosa anche per gli spostamenti fuori dalla propria regione. Una nota del Ministero dell'Interno ha chiarito che i viaggi per turismo sono consentiti e dunque per prendere un aereo verso l'estero ci si può spostare anche da un'altra regione. Una scelta che fa discutere dal momento che sono consentiti gli spostamenti per un viaggio verso altri paesi, ma non verso altre regioni, per lo stesso motivo. Le passeggiate sono consentite, ma solo nei pressi della propria abitazione. L'attività motore è possibile soltanto se individuale e all'aperto. Per esercizio fisico è consentito anche spostarsi al proprio comune di appartenenza, se in bicicletta o di corsa, ma non è consentito andare con la vettura. Se nel proprio comune non ci sono punti vendita o nel caso in cui un comune contigua al proprio o presenti una disponibilità anche in termini di maggiore convenienza economica, è possibile anche spostarsi per fare acquisti. Come a Natale, sono consentite le visite ad amici e parenti, ma soltanto una volta al giorno, al massimo due persone con minore di 14 anni, all'interno della propria regione. Il rientro nella propria abitazione deve avvenire però entro le 22. Sarà possibile spostarsi verso le seconde case, ma solo con il nucleo familiare, dimostrando di averne titolo prima del 14 gennaio 2021, e purché la casa non sia abitata da altri. Ci sono regioni che hanno però vietato o limitato gli ingressi, consentito arrivare soltanto per motivi di lavoro necessità e urgenza, oppure per manutenzione straordinaria, limitando la permanenza alla soluzione del problema. In Alto Adige è vietato andare nella seconda casa se non si è residenti. In Campania il divieto vale anche per i residenti nella regione. In Toscana non possono entrare i non residenti. In Valle d'Aosta possono entrare soltanto i residenti. In Sardegna possono entrare soltanto i residenti e comunque si deve esibire un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti o il certificato di avvenuta vaccinazione anti-Covid. In Sicilia si può entrare con un tampone negativo effettuato 48 ore prima dell'arrivo. In Puglia è vietato andare nelle seconde case anche ai residenti. Nelle Marche non possono andare nelle seconde case i non residenti. Le coppie che vivono in città diverse possono incontrarsi nel luogo in cui sia la residenza, il domicilio o l'abitazione. Le persone separate o divorziate possono raggiungere figli minori. Gli spostamenti per raggiungere figli minorenni presso un altro genitore o comunque presso l'affidatario oppure per condurli presso di sé sono consentiti. Bisogna scegliere il tragitto più breve però. I negozi sono aperti solo sabato 3 aprile, quelli consentiti dal codice Ateco. Domenica e lunedì possono rimanere aperti solo farmacie, edicole e tabaccai. I parrucchieri, come per la zona rossa, restano chiusi per tutti e tre giorni. Bar e ristoranti sono chiusi per l'accesso al pubblico ma aperti per l'asporto con queste modalità. Dalle 5 alle 18 senza restrizioni, dalle 18 alle 22 è vietato ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina, ma è consentita alle enoteche e alle vinerie. La consegna a domicilio è sempre consentita senza limiti di orario. Pranzare e cenare nelle strutture alberghiere è sempre consentito senza limiti di orario, ma solo per i clienti che vi alloggiano. All'interno delle proprie abitazioni è raccomandato stare con i conviventi e comunque in caso di incontri è consigliato mantenere la mascherina e il distanziamento. Quindi i banchetti con amici e parenti lontani non sono vietati, ma è preferibile evitarli. In conclusione occorre ricordare che in zona rossa è vietato uscire dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze. Pertanto anche il tradizionale picnic di Pasquetta non sarà possibile in alcun modo. Le fiamme gialle di Trieste e Napoli coordinate dalla Procura della Repubblica Partenopea hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni del valore di oltre 53 milioni di euro nei confronti di cinque soggetti ritenuti responsabili di una fraude fiscale nel settore della commercializzazione di carburanti per autotrazione. L'attività investigativa, avviata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziare del capologo Friulano, ha consentito di accertare una maxievasione fiscale posta in essere da una nota società campana operante nel commercio di prodotti petroliferi, la quale avrebbe effettuato fittizie cessioni di carburante ad alcune società fantasma per oltre 146 milioni di euro evadendo in tal modo l'imposta sul valore aggiunto per circa 33 milioni di euro. In aggiunta per lo stesso anno di imposta la dichiarazione dei redditi non risulta essere mai stata presentata con conseguente evasione dell'IRES quasi 20 milioni di euro. Secondo la ricostruzione operata dalle fiamme gialle la società si sarebbe collocata al centro di un folto gruppo di imprese fantasma dislocate sull'intero territorio nazionale. I titolari di fatto dell'azienda grazie alla loro pluriannale esperienza nel settore degli oli minerali avrebbero venduto milioni di litri di prodotti energetici a società cartiere fittiziamente dichiarati esportatori abituali che proprio in virtù di tale falso status potevano acquistare i prodotti senza l'applicazione dell'IVA. Successivamente le società fantasma rivendevano gli stessi prodotti applicando l'IVA al cliente finale senza poi versare l'arrerario meccanismo fraudolento tipico della cosiddetta frode carosello. Per effetto delle condotte ipotizzate la società avrebbe negli anni assunto una posizione assolutamente dominante sul mercato ponendo in essere una concorrenza sleale con grave inocumento non solo per l'erario ma anche per le aziende del settore che operano nella legalità. Gli odierni sequestri per equivalente restituiscono alla collettività un'ingente somma di denaro di circa 54 milioni di euro. Denaro che era stato sottratto all'erario da un sodalizio criminale partenopeo che attraverso una complessa frode fiscale era riuscita ad acquisire nel giro di pochissimo tempo il più grande deposito di oli minerali d'Italia con sede a Trieste. Aveva poi sfruttato questo deposito per poter piazzare e vendere sull'intero territorio nazionale carburante a basso costo tax free di fatto divenendo nel giro di pochissimi mesi leader in contrastato del mercato quasi monopolista e mettendo fuori gioco tutti gli operatori onesti di settore. 700 milioni di euro da assegnare ai comuni per la messa in sicurezza la ristrutturazione la riqualificazione la riconversione o la costruzione di edifici per asili nido scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia e quanto previsto dall'avviso pubblico emanato nei giorni scorsi congiuntamente dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero dell'Interno in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Dipartimento per le Politiche della Famiglia risorse destinate agli enti locali ne abbiamo parlato con il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo 700 milioni di risorse da spendere per gli asili nido le famiglie centri polifunzionali per le famiglie e le scuole dell'infanzia è un'opportunità che i sindaci devono cogliere per tutti i cittadini le donne in questo momento sappiamo che vivono più degli altri un problema maggiore perché si sentono il peso sia della famiglia dei bambini che il peso del lavoro io sono dalla parte delle donne che in questo momento stanno anche cercando di riaprire le scuole facendo ricorsi costruendo comitati l'abbiamo chiesto anche a Draghi di aprire più presto le scuole nel frattempo però bisogna costruire una comunità solidale che si prenda cura non possiamo chiedere impegno demografico più bambini e poi i bambini non riusciamo a costruire intorno una comunità di cura per questo il piano di 700 milioni in questo momento in Italia per aprire soprattutto nelle zone più svantaggiate nuovi spazi per i bambini è una buona notizia un'opportunità per le donne che si trovano a conciliare lavoro e famiglia le misure dei fondi europei di 209 miliardi oggi guardano molto a questo problema che nel gergo viene chiamato gender gap cioè questa grossa differenza tra le possibilità di una donna rispetto a un uomo in tutti gli ambiti a partire da quello lavorativo quindi ci sarà un grosso investimento e se noi non costruiamo degli spazi di cura delle famiglie di supporto naturalmente insieme a opportunità occupazionali per le donne non affrontiamo le disuguaglianze che sono forti in questo momento incontro questa mattina tra amministrazione comunale di Torre del Greco e Marine Litter una serie di progetti mirano a combattere l'accumulo di rifiuti presente sui nostri fondali due impianti depuranti sono già installati in funzione nel porto torrese siamo a buon punto del nostro progetto che ha avuto abbastanza di salto sia in ambito regionale che in ambito nazionale abbiamo avuto il saluto da parte del ministro Costa che si è congratulato con la nostra con la nostra ATI rappresentata da ICS Comitato Provinciale di Napoli dalla Sudenti Campania del quale faccio parte e sono vicepresidente nazionale dall'associazione di volontariato Ippocampo e infine dal nostro media partner che è la cooperativa Giancarlo Siani nulla è veramente entusiasmante questa iniziativa che stiamo portando avanti anche grazie al sostegno del flag litorale Emilio d'Oro del presidente di tutta l'organizzazione amministrativa del flag speriamo tanto in una continuazione del progetto perché il nostro motto è quello che qualcuno dopo di noi possa continuare questa bella esperienza e trasformare una economia circolare noi ci abbiamo provato a fare un'economia circolare in un'economia che possa sostenere anche l'operato dei pescatori cosa fanno esattamente questi impianti? I sebin sono dei secchi galleggianti che raccolgono in un diametro di circa 60 metri le plastiche galleggianti che si trovano all'interno dei porti costituite per lo più da buste da bottigline e da altri materiali plastico che galleggia all'interno del porto e questo movimento sali scendi che provoca un vortice e permette appunto di raccogliere la plastica galleggiante presente nel porto in più come abbiamo detto prima abbiamo anche a nostra disposizione questi banner olioassorbitori che cosa fanno? raccolgono come se fossero una spugna l'olio l'olio galleggiante proveniente dai motori delle barche dell'imbarcazione e di tutti i materiali comunque che si presentano sulla superficie dell'acqua Marilliter è un progetto che rientra nella strategia di sviluppo locale promossa dal flag litorale Miglio d'Oro che è un consorzio pubblico privato di cui fanno parte i comuni di Porti Circolano Torre del Greco Ettore Annunziata assieme ad una compagine di soggetti privati che in questo momento rappresenta il fiore all'occhiello dell'iniziativa del flag è una buona prassi che noi stiamo cercando di valorizzare il più possibile perché mette insieme istituzioni soggetti del terzo settore ed operatori economici nella creazione di un processo virtuoso che parte dalla risoluzione di un problema che è quello dello smaltimento dei rifiuti delle plastiche fino alla costruzione di un meccanismo virtuoso che è finalizzato al riciclo di queste plastiche quindi per noi è un motivo di orgoglio il progetto Mariliter e stiamo già lavorando ad una variazione della strategia che possa implementare e supportare anche le azioni future di questo progetto qual è la partecipazione dell'amministrazione di Torre del Greco in questo progetto? partecipa al 100% stamattina abbiamo avuto l'incontro io ho partecipato in qualità di assessore con Delega al Mare per la presentazione di tutto quello che è stato fatto fino ad oggi e quello che c'è ancora da fare è un progetto molto interessante che viene promosso dal FLAG che riguarda la pulizia dei fondali del mare e l'attenzione alla risorsa mare e noi ci aspettiamo praticamente anche come amministrazione di dare continuità a questo progetto e a queste attività perché siamo una città di mare e il mare ce l'abbiamo dentro è una nostra risorsa che va tutelata a prescindere e quindi lo scopo di questo progetto di questa attività è proprio quella di salvaguardare questa nostra risorsa che è molto importante oggi con questa attività sono stati presentati vari progetti realizzati che sono progetti di un grande valore economico e sociale e ambientale soprattutto abbiamo parlato anche delle attività che questa città svolgerà l'11 aprile in occasione della giornata del mare con tutte le associazioni che hanno promosso e voluto questo tipo di attività e dove anche il comune è parte integrante e quindi ci aspettiamo che tali tipi di attività vanno avanti per il bene della nostra città e del nostro mare protocollo d'intesa al comune editore del greco con l'associazione Prima Aurora un progetto che si pone come obiettivo quello di riforestare le aree maggiormente colpite dagli incendi degli scorsi anni l'azione di rimboschimento che sarà su base di un progetto del presidente dell'associazione Silvano Somma sarà del tutto gratuita per il comune editore del greco la finalità è sempre quella di ripristinare e rinaturalizzare le superfici che sono state percorse dal fuoco ma anche quella ovviamente di riavvicinare le popolazioni locali e le comunità locali al proprio territorio perché la nostra idea è sempre unica ossia quella che è l'amore dei propri cittadini che può davvero difendere il nostro gigante appunto il nostro caro e amato Vesuio e anche il parco nazionale che su esso sussiste quali sono i territori che saranno interessati nel progetto sono appunto quei territori che nel 2017 e nel 2016 sono stati percorsi dal famoso incendio sono territori abbastanza impervi dove la vegetazione di per sé ha di più difficoltà a crescere e quindi tramite questi nuclei di rimboschimento e rinaturalizzazione faremo in modo che il bosco possa tornare anche su questi versanti quali sono le attività in particolare che avete già in programma procederemo con la parte progettuale dell'attività quindi tutti gli interventi saranno progettati e poi autorizzati dagli enti sovrappreposti e successivamente si passerà poi con le fasi operative in campo ovviamente nel periodo autunnale quando le condizioni meteorologiche ed ambientali saranno idonee alla messa a dimora di nuovi alberi Quali sono quindi i tempi per portare a compimento il progetto? Nell'arco penso massimo di 9-10 mesi avremo portato a termine questa fase del progetto perché ricordo che anche questi interventi sono inseriti nell'ambito di un progetto più grande che è quello di riforestare il gigante che si sta estendendo sempre di più sta coinvolgendo sempre più territori più associazioni più realtà e più enti tappa importante tappa importante che sancisce l'inizio di una collaborazione tra amministrazione ed associazione prima aurora che si fissano come obiettivo quello di riqualificare le aree interessate nell'arco temporale di 8-10 mesi una bella attività proposta da questa associazione per riforestare il gigante coinvolgendo un po' tutte le associazioni del territorio si tratta di un progetto relativo praticamente alla riforestazione dei nostri territori comunali che sono stati colpiti dagli incendi del 2017 è un'attività che anche grazie alla consigliera Pomposo ho colto con grande piacere perché lei è molto attenta all'ambiente e quindi quando abbiamo avuto questa proposta l'abbiamo valutata e abbiamo pensato che coinvolgere le associazioni e coinvolgere i cittadini quindi anche un modo di cittadinanza attiva per riforestare stare a contatto con l'ambiente e il territorio non potrebbe essere che una cosa più bella per la nostra città di Torre del Greco per il nostro Vesuvio amministrazione che strizza quindi l'occhio alle associazioni e al territorio è stato firmato il protocollo d'intesa tra Comune e l'Associazione Prima Urola l'Associazione Prima Urola si avrà di persone esperte nel settore per gli incendi boschivi del 2017 2016 2017 c'è uno studio dietro a tutto questo fatto dall'Università di Agraria della Federico II finalmente ci siamo attivati per iniziare con una vera e propria progettazione con la collaborazione dell'Associazione Prima Aurora andremo a riprogettare quelli che sono gli interventi di riforestazione nelle particelle boschive comunali e grazie poi ai vivai della regione riusciremo ad intervenire su queste zone che sono state percorse dal fuoco e ancora ad oggi risultano in uno stato di degrado e con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG prima di salutarvi vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando un'e-mail all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484 con questo è veramente tutto arrivederci a domani grazie a tutti